Il vincitore dell'Isola dei Famosi Francesca Cipriani, altra finalista. Il pubblico si è stancato di certi programmi e certi personaggi, personaggi che non si sa nemmeno che lavoro facciamo, buona formicola. Che poi rincara la dose la Cipriani è l'esempio negativo di quello che la televisione non dovrebbe mandare in onda. Insegna alle ragazze che bisogna fare loca e non sapere fare niente per andare in tv. Mi sta sulle tue. Grazie a tutti.